Ma perchè vi vedo nuotare? Guarda tutti nuotano tempi sooo! Ma che sooo! Che c'è che nuoce? Everybody, everybody Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti ragazzi! Come al solito sono Frank! Come al solito sono Frank! Oh! Ma che... Cazzo! Ma che cazzo? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Cazzo! Riga sono fuori! Sono fuori dalla mappa! Sono fuori dalla mappa io! Oh mio dio che... Oh raga sta gara è epica già nella partenza! Epic World Ride! No raga guardami! Mi si è bancato Romino! Guarda sta andando con giù! Con una piede giù! Non pedala! Vabbè! Vabbè fa niente! Oddio! Guarda la pedala! Tutti quanti così! Allora io voglio solo dirvi una cosa! Ma se voi vedrete nel video quello che mi è successo a me a inizio gara! Ma io sono saltato in aria! Io sono... Sai dove sono finito? Fuori! Sono finito fuori nei canali di Los Santos! Questa gara... Questa gara è mistica! Ma siamo su tappo! This... This gara have no sense! This gara... Oh! Which saltone che ho fatto! Mamma mia! Much... Much better! Cazzo si correva! Big... Big jump! Incredible! Tipo di cambole parkour... No! Ma no! Perché c'era fatto il primo colpo? What the fuck? Regà ma siete delle pippe eh! Ahah! Proprio! Mamma mia! Porca p*****! Ti è la fata, ti è la fata Mi sto sparaflesciando, vedo ogni tanto pezzi della mappa, ogni tanto vedo sott'acqua che mi sembra proprio Mamma mia, ho preso una facciata contro il boiler che non avete idea Ho preso una facciata contro il boiler, ti faccio uno spoiler che non puoi, ragazzi l'ultima puntata Guarda questa puttanata che è ritta proprio, mi trasforma Napoli per la culore Scappa è morto, guardate che bello No, io non ti ho visto superarmi No, io ti ho superato, sei tu che stavi riflesciando perché eri caduto Eh, senti a me queste parole senza volerli pure indietro Franky vai avanti, vai avanti, buttati giù Via, verso l'infinito e oltre, via, via Attenzione, attenzione Certo per certo Brumotti, Incredible Race, ma sbaglio Edoardo è spawnato E' dietro di te Edoardo, non vorrei dirvelo Oh mio dio, vabbè quanto mi manca? È finito Ok Incredible Parkour Race Ah che bello proprio dove c'è scritto exit Bello, mi è piaciuta molto questa gara Ti lascio un bel mi piace come il mi piace che dovete lasciare a questo video Perché se arriviamo a 20.000 mi piace Prossimo spacchettamento epico, Clash Royale Ma che cazzo c'entra? Nel frattempo Edoardo così Wey, voglio bello steamer capin Ahahah Voglio ufizze Ufizze e merda casiendo Guarda che non pervenuto, attenzione Non pervenuto 3, 2, 1 Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta No, 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 agguzzate bene le orecchie Dono primo, ovvio Agguzzate bene le orecchie Agguzzate bene le orecchie Sì Senti, eh Eccolo qua Che schifo Edoardo, non ti fai un po' Cioè, sempre questi cliché ormai soliti Oh, fuck you baby Si, guarda questa situazione non durerà molto Mi sembra di rendere conto Ti ha orecchie Non mi piace Non mi piace questa situazione della classifica Eh, lo so DIANNO Niente, strano, strano Ecco, io sto a cogliere olive, porca La smettiamo? La vogliamo smettere, guarda Direi che forza è l'invento di smettere Scusa, ma cosa stai cercando? E non le trovi? No, porca Puoi uscire, ma? La madonna, come sei cattivo con tua madre La levati dal cazzo Puoi uscire, ma? Possibilmente Puoi sparire Oh, perchè scappa? Oh, che? Perchè sta ladrata? Perchè sta ladrata? Nooo, no, guardalo Perchè sono bloccato? Guarda questo che fa parkour Mi sono bloccato male io Allora Salto epico finito bloccato Comunque questa gara, ragazzi E' tutta scritta in giapponese Ma che è sta cosi? Vabbè Dentro i campi da tennis Sì, dai, e poi? E poi? E adesso? E poi c'è da uscire, babbi di minchia Babbi di picco qui A mezzo da merda Ma sono tutti grassi Ma sono tutti giocati Infatti stavo guardando Vabbè, si sa In America C'è questo forte problema dell'obesità Ma che cosa? Perché c'è un cappello? Che cos'è? Non è un cappello È una maschera da carlino Da chiara Appena posso cambio Appena posso cambio Metto il dinosauro E dico I dinosauri epici Oh Epic wall ride Porra miseria Sono finito in acqua Mi sa che c'è un grosso problemone Oh 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 Anch'io cazzo Oh la madonna che volo No regà qua si è pagato qualcosa Ho preso una schienata contro lo scoglio E' venuta la scogliosi Guardalo Ma che schifo Ma solo io sono lo stronzo che lo fa così Guarda L'unico che l'ha fatto nel modo legale Ehh Non t'azzarda Che figlio Mamma mia Guardalo E scappe Già era dal traguardo per colpa di questa cosa Già è partito male all'inizio Che schifosi C'era il passaggio qua a piedi Perché c'era una macchina esplosa lì? E non lo so Stanno facendo tanto da solo Guardalo Si arrampicava così Che schifo Dai ma sei un figlio di... Bravo Bravo Ci vuole giustizia in questo mondo Eh Per favore Madonna che cheating Oh regà Cioè devi cittarla a piedi ma è difficile cittarla a piedi Eh Già lo vedo Già lo vedo Perché c'è la scossa? Scossa? Va bene Non sto male Che c'è Carlo Conti qua? Ma vuol dire prendi la scossa Guarda Ma dove? Ah forse nei cavi? Sì No ma perché c'è un generatore dell'elettricità qui ecco perché C'è un generatore di stronzate Beh quello... Quello sei te E io sono un generatore di bestemmie No no quello è il signor Scatina Oh la... Sono te Così C'è questa qua paradossalmente si poteva fare tutto a piedi secondo me E infatti Vabbè no ok ok non tutto Eh che... Beh... Bello eh Bello uccidere la gente Dai Sento già gli spari da dietro E mica salto Guarda che destaccia Che palle Ma freghiamo la macchina alla polizia Ma com'è che cazzo te ne fai della macchina della polizia mannaccio E la moto della polizia c'è? La facciamo in moto Dai c'è l'elicottero C'è l'elicottero? C'è l'elicottero? Zitto Zitto No io lo so L'impresa è prendere l'elicottero adesso L'impresa è partito Vabbè io faccio una mega cosa eh ragazzi No 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 E riuscite a prendere l'elicottero io non ci credo Guarda che ho preso la macchina Guarda è possibile dobbiamo uccidere il pilota Però quando è basso Eh non si abbassa mai Azzato Guarda che scende dritto 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 Ma dove è sceso? Guardalo Dove è sceso? Nooo Ce n'è un altro eccolo è sopra di noi Eh ma tanto hai visto che casca male Ma poi lo vedi? Scappe come hai fatto a fare quel salto? Guarda quanto si muove però sto elicottero eh Ho fatto fuori il pilota Io ho ammazzato un altro Oddio Non riuscirò mai a ferrare dritto ragazzi No se deve attirare su questo Guardalo È terrato È terrato sul tetto Come lo raggiungiamo quel tetto? Come lo raggiungiamo? No 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 C'è la polizia raga C'ho tre stelle Ma perché non vanno via? Io pure Dobbiamo trovare un modo per raggiungere quel tetto Oddio A tutti i costi Guarda conti non l'ho trovato mi sa No mi hanno acciso No no è partita la gara E' partita E' una gara nella gara Gara and the race I giapponesi hanno pensato a tutto Mamma no Hanno pensato proprio a tutto Sì però io vorrei dirvi Io intanto sto andando a finire la gara Senti tu No no tu non la finisci Eh ma eh ma Eh sì Piuttosto rima No fai una cosa E ti dà l'ultimo checkpoint No no dai ti prego Fatelo per noi E ti dà l'ultimo checkpoint E torni indietro con noi Perché da cazzo stiamo andando? Ah ah ho trovato le prime scale Oddio ecco Primo piano Primo piano Andiamo per step Dive che c'hai a destra Oddio Sì Oddio E' par E' rotto Com'è rotto? E' rotto Non va? Non è rotto Lo sapevo io merda Lo sapevo Sì Sì E' anch'io Ti tiro giù Ti tiro giù Non me ne fotte un cazzo No Ti tiro giù Ti tiro giù Non me ne fotte un cazzo Ti dà Di te Ti tiro giù Ti tiro giù No 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 sapevo io che mi stavo mirando quei missili raga comunque è lunghissimo ah comunque edo ti do una brutta notizia non lo si può rubare perchè? ci sto premendo F non va non si può rubare edo secondo me mi stai più a per culo lo puoi vedere dal video sto spammando il tasso per me è fatto in modo che possiamo rubare solo i veicoli e non come hai fatto? raga ve lo giuro mi sto impampinando su sto pezzo dimmi come hai fatto hai saltato solo lì in quel momento solo in quel momento lì ho saltato ammazzo bastava così come una macchina comunque raga un elicottero come cazzo che sta facendo ditemi che cosa sta vieni camion di merda porco due mamma mia me guy per mi fa una po**a l'hai preso? si cazzo si ah si è salito da di là scusa io da qua come dovrei salire e ciao ragazzi come c'è da pagarla dopo edo mi spieghi che cosa dovrei fare qua mi sono impampinato cioè dove eri tu prima sul tetto non ti dico nulla va io ho già cristato un'ora io ho già cristato un'ora vabbè rega l'ho preso pure io sto check point ci vuole questa gara con cosia è fighissima cioè con le bici sono fighissime eh lo lo so lo so durano durano quanto lungometraggio eh però comunque sta gara è tosta tosta pane è arrivato l'originale l'unico raga guardatemi dove sono col cecchino ammazza non ti vedo io adesso ti miro sul dove sei ma guarda quanto è inculato lui si bagga tutto e riesce a passare oggi io sto veramente male proprio con queste gare cioè sto fuori forma sarà il natale non è per te la bicicletta il pranzo di natale mi ha appesantito ok ah ma tu sei bloccato qua scatto sto bloccato qua per dio oh santo cielo non puoi raga adesso che ci penso però forse era più semplice oddio oddio frankie come hai fatto devi far andare di là la bicicletta eh e poi si autoteletrasporta no e poi risalire si autoteletrasporta di là dimmi ah lì ok tu edoardo edoardo te meriti te meriti un girone dell'inferno eh sì che culo no io ho paura mi sto coprendo no 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 vedo la sua testa signor frankie no 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 morta mamma mia edoardo edoardo giro salve mamma mia prendo il primo oggetto e arrivo arrivo fino a ponte curone la faccio saltare in aria quella città guarda guarda si stanno accavallando tutte le bici qua il mio scopo dopo che ho visto le prime due ci ho pensato subito no e mo scappe scappe dobbiamo farle fuori aia aia no sto cadendo aia scappe lanciamo degli rpg lanciamo degli rpg no 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 edoardo hai rotto le palle io vedo in cima un puntino che so già che sarà un cacacazzi guardalo che vedo i colpi e no e guarda come sto ma cos'è guarda al contrario hai visto ma perché beh beh la faccio a piedi sai che fai te scusami no scusami scusami la polizia che mi spara perché no sono andato a fuoco sono andato a fuoco poi manco a dire sta gara durasse poco no cioè dura un botto e che fai ti metti pure a fare il cacacazzi ma si sta andando a suicidare guarda che salto chi fa e ora guarda 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 che sa che favole sta andando ema ema vabbè dai amici 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 eh e qua in questo caso me la distruggo ci sono più bicicletti qua che in ciclista edo per favore guarda la sofferenza del genere umano scappo però sei praticamente dai edo sei un figlio di puttana ma io ti lo giuro sei proprio figlio di puttana no 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 scappo che da zopera macchina della polizia il checkpoint più sudato in tutta la mia vita perché tu non è ancora arrivato sei ancora arrivato al secondo tu e prosegui sì sì ma hai il traguardo qua davanti hai cagato il cazzo in tuo questo tempo c'hai il traguardo ma guarda veramente come nei negozi osservare ma non toccare ma io ho una parola dai edo edo vai a finire la gara ciao ragazzi vado a vedermi un telefilm no 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 oh io ho messo no no scappo no io ho messo le bombe no scappo no scappo cioè non è che ne hai messo una per scappo un'altra pure per me un'altra pure per me guarda tu la baghe rega sappi che la baghe rega adesso raggiungo scappo non posso vedere pure io un telefilm esploditi con una bomba H processo nel computer ti buchi da parte a parte il pc sul finale come si dice la ciglia e gira sulla torta però adesso no ma tu sei proprio solo guarda qua me lo ricordo questo tutto questo adesso io me lo segno perché prima o poi quando dovrei registrare tu ho sbagliato uscita si ho preso la salerno regio calabria mi sa a me c'è ma bastava trovare la giusta autostrada praticamente non è arrivato pure non fermo oltre al danno anche la beffa ragazzi purtroppo questo video è stato un video pieno di dolore di sofferenza ma guardalo guardalo poi guardalo maraveo io faccio una promessa a tutti i telespettatori nel 2017 edoardo si pentirà di fare video di tutti arriverà a un punto in cui lo proprio chiede alla rockstar per favore rimuovimi la canta ecco ma sai che possiamo fare andare su rockstar social club e segnalare gp così mi fanno un bel controllino e dicono come mai questo qui c'ha 6-7-8 milioni di miliardi di dollari e come mai Frankenstein c'ha anche un mezzo di un miliardo ma tutti questi ultimamente almeno un bel sonato trasferito zitto comunque ci vediamo doma cioè no domani no prossimamente 30 su tg5 grazie arrivederci grazie